Ciao a tutti da Bicchio Verde, oggi parliamo della teoria di come funziona un incantesimo, non è il primo video che faccio di questa natura, e da un po' che ci rifletto, perché soprattutto nell'ambiente, non dico iniziatico, perché chi è all'interno di un percorso iniziatico già conosce bene o male i meccanismi, teoricamente conosce, poi c'è chi è più portato e chi è meno, perché anche all'interno di un percorso iniziatico c'è chi ha delle caratteristiche più rivolte alla parte sacerdotale, chi più ha la parte di incantesimo o che è più portato magari al fattore ritualistico. Diciamo che sempre c'è un punto su cui siamo un po' più forti rispetto all'altro. Però in generale le persone che si avvicinano alla stregoneria tradizionale, a un percorso iniziatico o un percorso spirituale, qualsiasi esso sia, solitamente tende a copiare, tende a copiare gli incantesimi, tende a prendere incantesimi da libri e farli alla lettera, che non sempre è possibile perché per una questione dei materiali, che alcuni materiali non sono reperibili, per esempio, o difficilmente reperibili o addirittura ci sono antichi incantesimi che oggigiorno sono infattivi per varie ragioni, soprattutto legali. E quindi sapere un po' di teoria di come lo si sono incantesimo ci permette anche di a volte prendere spunto da quei rituali e modificarli in base alle nostre esigenze. Però per poter modificare un rituale o un incantesimo già scritto, dobbiamo conoscere le basi di come funziona un rituale o un incantesimo. Quindi il primo punto sicuramente è saper riconoscere e studiare molto molto bene le corrispondenze delle erbe, dei cristalli, dei vari elementi, dei vari ingredienti, delle resini che andiamo ad utilizzare per un incantesimo. Quindi conoscere bene la base delle erbe che usiamo o degli ingredienti che usiamo per un incantesimo. Questo perché specialmente questo ci aiuta a saper sostituire un ingrediente che magari, faccio un esempio, per esempio in un lavoro c'è bisogno del sangue di drago che è una resina non sempre facilmente reperibile e magari abbiamo bisogno di qualcosa di rapido e veloce e non abbiamo il tempo di comprarlo o trovare questo ingrediente, si può usare la cannella che è un buon sostituto, non è la stessa cosa ma è un buon sostituto del sangue di drago. Quindi conoscendo un po' le corrispondenze dei vari ingredienti, conoscendo un po' le caratteristiche, sappiamo anche come muoverci all'interno della creazione di un incantesimo. Poi, altro fattore, oltre alle corrispondenze, quindi agli elementi, quindi conoscere la base degli elementi. In effetti noi, all'interno del nostro percorso iniziatico, il primo passo per poter accedere, diciamo, all'iniziazione, facciamo un lavoro molto profondo che dura più di un anno proprio sugli elementi. Questo perché, oltre a capire il significato dietro ogni elemento, c'è anche l'esperienza dietro ogni elemento, quindi viene fatta proprio sia una parte teorica ma anche una parte pratica, in cui il novizio viene introdotto e fa esperienza dell'energia, del potere, delle entità che ci sono dietro a quel determinato elemento. E poi anche la base rituale, perché comunque tu devi sapere perché un rituale ha quei determinati passi, perché quel rituale ha quella determinata struttura. Per esempio, noi nel percorso Wicca abbiamo una struttura specifica che funziona molto bene e diciamo che usiamo la stessa struttura per vari tipi di rituali che possa essere, certo, modificando delle parti, perché le formule non rimangono uguali, le invocazioni non sono uguali, le parti non sono uguali. Però la struttura del cerchio, della chiamata degli elementi, poi in base a che tipo di rituale saranno elementi diversi, nel senso se facciamo un rituale classico, un esbat classico, saranno i classici elementi, se facciamo un rituale planetario, saranno le costellazioni legate a quel determinato elemento, se invece è un rituale, che ne so, cabalistico, saranno gli arcangeli connessi a quel determinato elemento, gli angeli e arcangeli. Quindi c'è un lavoro di struttura basica che più o meno rimane sempre la stessa, ma si modifica il contenuto di questo contenitore, che funziona molto bene. Poi però ci sono rituali di stregheria tradizionale italiana in cui, per esempio, la struttura è completamente diversa. Ci sono rituali egiziani in cui la struttura è completamente diversa, perché comunque, un esempio fra tutti gli egiziani, la magia egiziana non usa la struttura del cerchio, ma usa la struttura del tempio. Quindi usando la struttura del tempio ha un altro tipo di struttura. Questo non vuol dire che tu non puoi invocare un'entità per un incantesimo all'interno di un cerchio, perché funziona ugualmente, ma sono due strutture che potenzialmente sono diverse e si può sperimentare l'una e si può sperimentare l'altra, secondo me. E quindi il punto è, se noi conosciamo le corrispondenze, se noi conosciamo la struttura dove creare quelle corrispondenze e dove e come metterle insieme e che sia equilibrato, perché il problema è che molte persone fanno degli incantesimi, e parlo anche per me stesso ai primi tempi che bazzicavo in questo mondo, all'inizio fai degli errori, perché gli incantesimi sono completamente squilibrati, perché c'è un eccesso di un'energia che poi va a rovinare realmente l'intento, oppure c'è una confusione mentale per quello che stiamo realizzando e quindi l'imprinting che noi diamo all'incantesimo crea ostacoli, perché prima di sapere le corrispondenze, prima di sapere tutto la struttura del rituale, dobbiamo conoscere quello che vogliamo da questo determinato incantesimo in base a quello che vogliamo utilizzare e in base agli elementi di quel determinato rituale. Quindi questo cosa vi permetterà? Semplicemente vi permetterà di poter creare i vostri propri incantesimi, che per quanto mi riguarda è la parte più divertente e creativa di un lavoro magico, e in più c'è una parte misterica in cui quando inizia ad avere forti relazioni con le entità, con le divinità, sono loro stesse a indicarti l'incantesimo o gli elementi attraverso dei segni, possono essere dei sogni, possono essere delle intuizioni, possono essere dei simboli. Cioè a me è capitato spesso di sognare un incantesimo che io non conoscevo, non avevo mai fatto e nel sogno mi viene spiegato come doveva essere fatto e con quali ingredienti doveva essere presenti e quali elementi. Quindi più lavori su questo flusso, più arrivano anche degli aiuti. Quindi vi consiglio prima di tutto di studiare seriamente le corrispondenze dei vari elementi, imparare a costruire un vostro incantesimo, dei vostri incantesimi, dei vostri propri primori personali, e vedere anche fare una ricerca di ciò che funziona e ciò che non funziona, perché ha funzionato o perché non ha funzionato. Questo vi aiuterà a migliorarvi all'interno dell'arte. Per il resto vi saluto, che sono scaduti dieci minuti, e ci seguiamo presto. Benedizioni da Picchio Verde.